Ok, però ragazzi ci siamo, partiremo l'esperimento come con il suo, per qualche santo ritrovare in training, un riscattamento poi, dopo di che, inizieranno a guardare sul segno, quindi tra poco ragazzi proviamo questo messaggio per i colleghi presenti, occhi verso l'alto, non qua in basso, anche se so che è difficile scegliere, mettiamo un attimino a svizzare in the sky, perché tra poco ragazzi avremo l'occasione di osservare live i trinchi per le figure che andranno a carabinizzare questo primo ingresso, con un'incipina denominata turista e con le cross, team di e drivers, ed è completo, siamo, guarda, sa sa sa, piano piano, ci possiamo saltare i motori, insomma, ne diamo tempo e modo di portarsi in posizione, dopo di che, vediamo insomma, di capire da un quale i piloti presenti prendono la vita a questo primo ingresso di giornata, in loro vecchia via, o piano piano, dai, andremo via anche a questo appunto primo ingresso di giornata, vi ricordiamo ragazzi ore 22, un secondo ed ultimo appuntamento, e per quanto riguarda chiara tutta, vi adorate gli occhi, per i domani, siamo volendo per l'incipino, andrò più tardi, in più orari, a punta, che è lo stesso in style. Non, 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 non. Come on, non, non, non! Ok, io non so dove devo stare, guarda, io rimango qua, direi che può andare, si subricchita però la gioia, se vai così dopo mi distraio non posso fare mio lavoro, guarda, mamma mia che mi taccia, ok ragazzi, dobbiamo parlare di moto perché sennò qua ci perdiamo, otteniamo l'ingresso del primo e presente, guarda qua, piano piano, ecco, qui bisogna parlare del giro, ecco ragazzi, se no, facciamo così, guardate, la torreta a faro per adesso non serve, eccoci qua, risolto il problema, ok. Via, il problema presente, adesso andiamo su, la torreta a far passare, vai per un casa ragazzi, più easy, e adesso, aspettiamo, grande, grande, grande ragazzi, dal moto del motocross, giovanissimo, 21 anni, guarda qua, tranquillità, e poi naturalmente, ottimo anche il jump, il passaggio del, qua con il mio presente, quindi signori, siamo all'inizio solamente di questo primo ingresso, siamo alle prove, adesso andiamo al training, e la prima, insomma, ve lasciamo tepi letissimo, quindistein siamo alle armostrate, goes spettanti, quindi è un po' anche, ma tutti i ragazzi, mi sono anche se avete fatto bene l'ingresso, ma parvo noi, come hai visto? Ora qui il的是se, e sono le error di data signori, davvero da eine be argente termotero, dun проблема, ho un giro, you, Sha, tu doom, ho un giro, ja, E' sacro il fatto che andiamo anche con il nostro Mike, e piano piano insomma, attendiamo che dovevo sviluppo queste prove, che si assumono poi, in uno soffero proprio, quindi attenzione, sempre in posizione, Zalona, con il nostro Resilio Cliffhanger, ragazzi, trovate il giusto figlio sotto il valutino della Yamada, un metto di tempi, adesso, il nostro, il nostro Ale Punt, poi andiamo nuovamente, 1, 2, 2, il nostro Ale Sandozante, Bene, ragazzi, back, back, wow, school, bene davvero, e intanto, manca la bella, ancora il nostro Mike Zalinas, dei clicker, quindi sull'avantreno della Yamada, primi ingressi, piano piano insomma ragazzi, si inizia a vedere qualcosa a fare sul serio, e vi ricordo, siamo solamente all'inizio di questo primo appuntamento in loro compagnia, ora è 22, l'orario del secondo appuntamento con Youth Riders, Crystal Moto, e che è bellissimo, vai, cia cia cia, attenzione, ok, allora le punta, in posizione, nelle retromie, andiamo a due mezzo, due tempi, è quello che si porta, ora, in jump, il secondo appuntamento è il nostro Davide Zilio, poi andiamo, attenziamo, la tabella, la targa, 1, 6, 2, con il nostro Alessandro Zanardelli, è naturalmente una chiusura a tagliare, alta, sui tempi, alta, due e mezzo, il nostro Mike Zalinasso, ok, allora signori, Simo, c'è un saluto un pochino, tutti qua raga, un attimo, ok signori, attimo momento della presentazione, quindi, carichiamoli al meglio, e naturalmente, insomma, fatemi sapere, tramite applauso, chi vi piace di più, insomma, partendo dal primo presente, traiamo a due e mezzo del tempi, ragazzi, dal mondo del motocross, ma, insomma, veramente, direi che tu lo già mi via tranquillo, Saraga, 21 anni, da Brescia, l'applauso per il nostro Alessandro Zanardelli! Rimaniamo, rimaniamo, passiamo un pochino, rimaniamo sulla jamba, rimaniamo sul due e mezzo, rimaniamo sulle due tempi, ma parliamo di un altro, un grande amico, e anche un grande rider, Alessandria, l'applauso per Mike Zalinasso! Passiamo al terzo, se vogliamo passare più mezzo, sempre dei tempi, sta passando del grappa, ragazzi, voce per Davide Zigno! E il fine, ragazzi, ultimo, ma l'ultimo, anzi, volete essere il fino che mi insegniamo, perché, permettimi, sei il reggio di casa questa sera, quindi, raga, un nome e un cognome, una grande conserva, ogni qualvolta si porta il seno, ma, soprattutto, il boato per Ale Porta! Ok! Bene! Ci siamo allora, pronti per portarci finalmente in posizione, vi abbiamo, fatevi andare, li abbiamo presentati, adesso, raga, tocca a voi, quindi, vi attendiamo! Guarda, non mi fido! Senti, che mi stia! Ciao! 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 Ciao!